Questo di oggi è un incontro che vi vuole presentare un microscopio della linea MOTIC Educational, il modello 28-20. Questo è l'entry level della serie binoculare. È un microscopio molto compatto, tutto completamente in metallo, con un revolver a 4 obiettivi. In dotazione standard comprende 3 obiettivi, 4x, 10x e 40x. In più è possibile montare il 100x a immersione come in questo caso. Come vedete è un microscopio che ha due oculari con correzione diottrica su ogni singolo oculare e distanza interpupillare regolabile fino a un massimo di 75 mm. È dotato di un tavolo traslatore con due comandi coassiali. Quello superiore comanda la traslazione in verticale, quello inferiore e la traslazione in orizzontale. È dotato anche di un comando di focheggiamento del gruppo condensatore. È possibile gestire anche il diaframma a iride per diaframmare l'uscita ottica della luce dall'illuminatore. È dotato di messa a fuoco macro e micrometrica coassiale con un comodo comando della frizione per regolare la durezza del comando stesso. L'illuminazione è fornita da un LED a intensità variabile della potenza di 3 W. Nella confezione troviamo un flaconcino di olio nel caso sia acquistato con l'obiettivo 100 per a immersione. Nella dotazione di serie è anche compreso un manuale di istruzioni molto completo in lingua italiana dove sono spiegate le funzionalità e le varie modalità operative e tutto ciò che è necessario sapere per un uso corretto del microscopio. Il tavolo traslatore è molto solido, consente un'ampia varietà di movimenti di escursione ragionevolmente ampia. Il sistema di bloccaggio del vetrino è molto comodo e pratico e consente di lavorare in tutta tranquillità senza perdersi il vetrino. Questa è la presentazione di questo modello che come ho detto è un entry lever quindi un modello più semplice della linea educational però dotato di testa binoculare. Se vi è piaciuto mettete un like e scrivete qui sotto i vostri commenti a quali se volete di rispondere. Ci vediamo la prossima volta e siete sempre benvenuti da Ottica Mancini e qui ci vediamo la prossima volta e ci vediamo la prossima volta e ci vediamo la prossima Ciao! 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 Ciao!